Sembra essere tornati indietro di anni, quando alla guida della Nocerina non c'era un gruppo di dirigenti solido e dalla fine di ogni campionato si andava in giro a chiedere offerte per una colletta e si immaginava un azionarato popolare, progetti però che cadevano dopo alcuni giorni per impossibilità di realizzarli. Ed ora si ricomincia, si parla di un conto bancario su cui far convergere le offerte, c'è chi si sbilancia sulle cifre, magari 3.000 tifosi pronti a devolvere 25 euro al mese. Non sarà facile anche perché questo tipo di idee nell'Italia pallonara non hanno mai trovato pratica attuazione. La Spagna è ben altra cosa. Intanto continua il toto presidente. Dopo il disimpegno di Giovanni Citarella, le voci vere o presunte tali, hanno avuto una rapida accelerata. Il nome più gettonato e nello stesso tempo più desiderato è quello di Mario Gambardella con il figlio Attilio, già patron della Nocerina e protagonista di un'altra sfortunata galoppata verso la Serie B. Dopo l'addio al Sorrento, Gambardella potrebbe essere spinto a rimettere mano ad un progetto che certamente gli è rimasto caro. Lui stesso, in tempi non sospetti, circa tre settimane fa, in un'intervista rilasciata alla trasmissione a tutto tondo, non escluse completamente un suo coinvolgimento. Eppure l'attuale situazione economica mi impegna di più in aziende, comunque ho tanti posti di lavoro da salvaguardare. Quindi ho poco tempo e non sono più tanto disposto a investire nel calcio al momento. Poi in futuro tutto può succedere. Al momento però Gambardella ha dato la sua disponibilità ad un contributo, così come ha sempre fatto. Smentita ha anche la voce dell'interessamento di Enrico Preziosi, presidente del Genoa. Qualcuno avrebbe immaginato che uno dei suoi avvocati, essendo Nocerino, poteva coinvolgerlo nel club rossonero. Ma non è così. Nelle ultime ore è emersa un'altra pista. Porta Pasquale Barba, imprenditore impegnato nella scuola privata. Enosole sarebbero i capofila di un gruppo di imprenditori che da tifosi e sponsor vorrebbero trasformarsi in soci del club. Mentre il sindaco Maglio Torquato, a cui Citarella ha affidato il compito di individuare eventuali soluzioni, lancia un nuovo appello. Se l'attuale gestione societaria dovesse di suo spontaneamente ripensarci, ben venga, sarebbe una sua scelta. Se altri imprenditori vogliono rispondere ad un appello che rinnovo qui ed ora, in modo pubblico, di modo che nessuno può dire non ci hanno chiamato, non ci hanno fatto sapere. Quindi in modo pubblico chiediamo a tutti gli imprenditori di buona volontà, eventualmente anche altri rispetto agli attuali, che vogliono partecipare a rilevare la società, lo facciano. Ma chiariamo che non è questo il compito di un'amministrazione comunale perché le conseguenze delle scelte deve legittimamente, e lo dico con rispetto, accollarsele chi le produce. Quindi chi ha gestito la società ha fatto delle scelte. Quali saranno le conseguenze, il mantenimento in vita o l'estinzione, saranno il frutto di quelle scelte, non di una responsabilità dell'amministrazione comunale. Intanto Gaetano Auteri è rientrato oggi nella sua Floridia alle porte di Siracusa. Attenderà lì le nuove proposte di lavoro. È improbabile un suo ritorno sulla pacchina rossonera, a meno che non ci sia un ripensamento di citarella, opzione ancora, secondo i bene informati, non da cestinare completamente. L'allenatore, che ha diviso la tifoseria per le sue teorie, i suoi schemi e le sue scelte, sabato pomeriggio ha salutato i supporters rossoneri. Era andato a salutare il dirigente Franco Tamigi nella sua concessionaria di automobili. Il Tam Tam ha fatto sì che sul posto convergessero decine di tifosi che hanno approfittato per salutarlo. Ed ora che succederà? Difficile dirlo. L'unica cosa certa è che le dichiarazioni di Giovanni Citarella hanno provocato un profondo sbarrimento nel popolo molosso che non sembra voler perdonare al patron della storica promozione in Serie B di aver mollato tutto o quasi all'improvviso, riportando alla mente dei più anziani tifosi le ore di angoscia vissute anni fa quando si faceva la colletta per sperare nell'iscrizione della squadra al campionato. Anche il calcio è fatto di corsi e ricorsi storici.